fratello com'era? vuoi venire in Albania se ti porto a casa mia abbiamo tutto proprio tutto non c'è mai la polizia puoi portare anche tua zia che facciamo un matrimonio fermo 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 porca candy io ce l'ho fatto culo per venire qua sono arrivato con gomone tu mi dici tornare in Albania ma vai vai non è che mi sconti ma qua se la fanno soldi